Innanzitutto buongiorno, io sono Giovanni Izzo, sono un corporate brand developer del gruppo Margraf. Una descrizione della Margraf. La Margraf si occupa della estrazione di blocchi attraverso le cave di proprietà, che sono circa 17, della distribuzione dei marmi, infatti siamo il gruppo più grande appunto per la distribuzione dei piccoli marmisti e in Italia e all'estero, ma cosa fondamentale ormai da 50 anni a questa parte la Margraf si occupa del processo architettonico a 360 gradi, quindi realizzando appunto la gran parte dei progetti più importanti sul panorama nazionale dell'architettura. Il rapporto tra Arc Marathon e Margraf è nato ormai tre anni fa, per noi è stato assolutamente un privilegio e un onore il fatto di essere stati selezionati come azienda partecipanti appunto ad un evento di importanza così internazionale. Il fatto appunto di essere ormai dal terzo anno di partecipazione all'evento stesso vuol dire che la Margraf ormai è una delle aziende più riconosciute nel panorama internazionale e questo è assolutamente motivo di orgoglio.